Ieri c'erano, ma da cosa ieri hai fatto? Sto a fare tutto, metteam Tutti quanti cavalli o ieri quanti mi capiteam? Ieri ti fatti Si, credo che abbiamo bisogno di andare a me Perché i cavalli stai fermo, se no mi andava sempre a testa Invece quei ricerrimo, so che non va a fare rete Ti ero aiutato che toccava la vallina? Oh si, ogni settimana, e poi ieri c'erchi anche Senti dove da noi? E dopo l'altra roba che avevi da domandarmi Quale è che ti comprasse le cavalli che vede, che basta ieri? Non lo so, i nomi, i miei suoi nomi Sì, a chi non lo vede a dirà? Si, ma ieri è una roba particolare Dove di comprare ieri, che era solo un po' visuale Dove di comprare? No, non ho da cosa Non mi ricordo Non verrà che ieri è qui da ti ora No Eh no Mi so, mi chiamo ieri ammucolti No, la tua chiave li erano E' ranno un po' parlando de piave Ah, mi chiedi di altro, a Irma e la mora Ti chiedi di valio, Irma e la mora Eh eh Io ero a sui personali oi? Eh sì In fondo c'è camionella? No, sì, sì, sempre di altro Che nemmo postassero più qua Amno, Pia Ti servevi? eh perchè ormai non tirava pilli, li dava pilli, ora io ho tolto il camion e i cagli avevano due e mi restai con uno e mi portai qua e che dura tanto o se si ricordano ancora i nomi? 60 eh quanto? un comale? eh no i sui, quanto vai durando? ebbene la regia, la regia qua era l'uomo in tani sì, no, ti lo fai, mi lo scusi la regia qua era l'uomo in tani hai, 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 sei avuto un compugnerino, non dovessi, la cosa vuoi a Irma era... a Irma? a Irma? o Aldo era? era mora e era ancora orba sì, mora, o no che estrada? come facevi a che sei ora orba? ah, hai, 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 hai io triei sei tornare andando con l'albo orba ah, ok, tu sei che hai era esteroしてuro? era il principale io stevio ah è, porqu' non metterai a altra cosa Sì, beh, perché non c'è mai un caffè, tra i cavalli, portare il vino ai Peroni. Cioè, a chi veniva tutti i Peroni? È Ciccato, da Fonzaro. Io ero i Peroni della Sotera? C'è, c'è. Da Fonzaro? Sì, sì. Ah, io ero venuto i Peroni di Silva. Qua? No, io ero il Peroni prima o no? Eh, io ero il Peroni dell'Ortero a Notto, il Vio del Borneo. Ma qua in particolare ero andato a portare che volta a Cossa? No, io ero il carico a farina, io ero 150 anni solo. Addirittura? Sì. Come si è mai un carico così da un birocio? Eh, rimorso. Rimorso? Rimorso. 150 anni portavo? 150 anni, io ero qui o che è? Qua una coppia che hai? No, una coppia che hai. E' come? Ma... E' scatacare qua? No, qua andava da Cagliforti, da Cagliforti stassi non ero su strada. E se non andava più di cattieri. Dove li ricaricai questi? A Cagliforti, li ricaricai da Cagliforti, da Cagliforti stassi non ero su strada. Amico, vi ammazzonai Cagliforti? No, non caricai la mia. No, ovvio. E ora io giocavo un tanto da Cagliforti, ovviamente. Un tanto poi a viaio, insomma, è un sacco, è un sacco settuale, sì. E quanto chi pesava circa a me, che era mio in mente, un cavallo del genere? Ma addolta, c'è il Vita di come. No, no, no. E' un'altra parte. Noi andiamo in tutto l'anno... Poi in dire, così... Non èissimo. E' un voto così e poi arrivino la cattedja. E' un voto così e che era un piacettino. E' un po' il bambino, s'è? E' un po' il bambino. E' un po' il bambino. I ero dai fai sciolidi comunque. Sì, certo. Se lo pendeva le pendeva. Ma inoltre, omanche che vanno da me gare? Ehm... Ehm... Si 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 Sì Si Si Sì Sì Ehm... 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 Sì CERE E' un'altra roba, è Silveggio, è andata fuori qua sulla destra? Sì, ti sono fatto la paglietta per il pietra, era quello che prima ti tagliasse? Io ho fatto il taglio, ho fatto il taglio, ma dove ho il taglio? In fondo mi togliete il taglio. Eleggio il taglio il taglio. Gli ragazzi adesso, i laghetti, quando venite a fare, gira il paglio, la staglio io. Grazie a tutti.